ciao si dico proprio a te siamo in primavera e se hai voglia di allenarti su questo canale youtube il canale virtuale di caigo caigo è un negozio di sport a venezia per runner camminatori per chi piace fare anche del turismo attivo venite a trovarci a venezia in campo san basilio ok dunque in calle del vento trovate il nostro negozio ora questo canale youtube nasce proprio per come in modo virtuale rimanere in contatto possiamo allenarci assieme dunque faremo delle riprese in diretta su instagram e youtube dove ci alleneremo assieme più troverete tutti i video caricati sul canale youtube alessio breda iron alessio andate sul canale cliccate su iscriviti cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati c'è un quadratino con una freccia in su quel quadratino lì se lo cliccate potete condividere il video che più siamo e più ci alleniamo assieme ci divertiamo e se il video vi piace mettete un bel like in modo che anche youtube mi aiuta a crescere ok e più siamo ripeto più ci divertiamo il momento è propizio come la primavera perché al sole all'aria aperta ci si allena anche meglio se siamo in casa prendete gli esercizi in workout che facciamo in casa e li portiamo all'esterno ci alleniamo e ci manteniamo in forma perché l'obiettivo è stare bene e sappiamo come mai in questo momento che mantenersi in forma fare sport tiene alto il sistema immunitario ok dunque chi si allena chi fa sport e chi si tiene in movimento sapete che fa bene a tutto e soprattutto fa bene alla nostra salute creiamo endorfine e stiamo bene con noi e con gli altri dunque vi aspetto dentro dove ci sono tutti i video dove abbiamo tutte le nostre varie routine da poter fare assieme e video interessanti sulla nutrizione sulla motivazione e tutto quello che può essere interessante per fare una bella vita sana allenandoci assieme andiamo continuate su questo canale youtube e seguitemi e vedrete che riusciremo a fare delle belle situazioni assieme e fare degli ottimi allenamenti sempre cominciando dal nostro workout di base dove faremo 30 secondi di lavoro 30 secondi di recupero esercizi adatti a tutti uomini donne atleti o neofiti che vogliono cominciare a stare in forma con esercizi a corpo libero ciao a tutti e vi aspetto qui nel canale